Unicredit condannata a pagare 7,6 milioni di euro per il crack della società Divani avvenuto nel 2011. La quarta sezione civile del Tribunale di Bari ha condannato la banca a versare la somma in favore della curatela del fallimento dell'azienda barese produttrice di Divani. Dichiarando la propria incompetenza territoriale con riferimento ad alcune richieste risarcitorie, i giudici civili di Bari si sono pronunciati nel merito, accogliendo parzialmente le domande della curatela per 157 operazioni in derivati sottoscritte fra il 1998 e il 2005. Per quei contratti, oggi dichiarati nulli, Unicredit fu condannata a maggio scorso al pagamento di altri 12,6 milioni di euro corrispondenti alle presunte perdite dovute agli investimenti in derivati. Sulla vicenda pende inoltre dinanzi al Tribunale penale l'udienza preliminare relativa alla richiesta di rinvio a giudizio dei vertici Unicredit imputati per concorso in bancarotta fraudolenta della società Divania. In questo procedimento il PM della procura di Bari, Isabella Ginefra, contesta a 16 persone, fra le quali gli ex amministratori delegati Federico Ghizzoni ed Alessandro Profumo, oltre a manager e funzionari della banca, di aver distratto dai conti della società oltre 183 milioni di euro, ingannando l'imprenditore Saverio Parisi e inducendolo a sottoscrivere 203 contratti derivati, che in pochi anni, secondo l'accusa, avrebbero portato la società al dissesto e al successivo fallimento.